A Samarate per le amministrative si va al ballottaggio tra Enrico Puricelli e Alessandro Ferrazzi, delusione per il centro-destra, sicuro di passare al primo turno, fermo invece al 42%. Io dico mai fare riferimento quando ci sono le elezioni europee o regionali o nel governo, perché poi le comunali sono tutte diverse. Aspettiamo, aspettiamo ancora 15 giorni, ce la metteremo tutta per vincere ancora. Siamo pronti, sarà difficile perché sarà difficile. Noi come Lega siamo aumentati molto a confronto alle europee, questi ne siamo fieri e felici. Vediamo cosa succederà. Ad erodere il tesoretto di consensi spiega Puricelli in particolare. Sicuramente Samarate al centro è quello che ha fatto la differenza, perché da quello che mi dicono ha preso molti voti in tutte le sezioni e le frazioni. Quindi se non ci fosse stato Samarate al centro, forse adesso saremo qui a festeggiare al primo turno. Meno sorpreso dell'esito elezioni, Ferrazzi. Me l'aspettavo sì, perché ero molto fiducioso nella gente di Samarate che voleva un cambiamento. Ho avuto anche una lista di 20 sostenitori che non si sono presentati alle elezioni, ma che hanno detto noi sosteniamo la candidatura di Alessandro Ferrazzi. Siamo arrivati al ballottaggio, è un grossissimo risultato, perché dopo 15 anni a Samarate, dove governava il centro-destra, siamo riusciti almeno a spodestarlo da questa posizione. Su un eventuale apparentamento che molti danno per certo con Macchi, Ferrazzi non si sbilancia. Ci sono degli obiettivi comuni e nelle condizioni accettabili vedremo di trovare magari un modo per... però non è ancora detto perché potrebbe essere anche diversamente a seconda di come andranno queste riunioni.